Nel video di oggi ragazzi vi parlerò di questo nuovo illuminatore della Godos ML30 illuminatore leggerissimo che pesa meno di 600 grammi quindi anche molto potente però se non sei interessato a questa tipologia di luce ti invito lo stesso a visionare questo video di rimanere fino alla fine perché parleremo di tre cose molto interessanti che magari in futuro potrebbero tornarti d'aiuto. Quindi innanzitutto ben ritrovati in questo nuovo video e come ti dicevo non ti parlerò solo dell'ML30 ma ti parlerò anche di questi nuovi modificatori di silicone della Godos con attacco Godos Mount ma vanno bene anche per un normalissimo Speedlite o addirittura anche per il tuo Godos AD100 e ti farò vedere anche altri nuovi modificatori. Ti parlerò dell'applicazione Godos Lite di come aggiungere un prodotto della Godos come questo ML30 qualsiasi prodotto che abbia il Bluetooth, creare dei gruppi e cosa molto importante ti parlerò di come calcolare la durata della batteria specialmente quando utilizziamo questi prodotti in esterna quindi avere un'autonomia decisamente sicura per molte ore. Quindi per quanto riguarda invece tutti i dettagli tecnici ti mando ovviamente al sito ufficiale della Godos dai un occhio lì io non ti faccio la recensione da nerd ho già fatto una recensione dove ti parlavo delle ML60 quindi puoi anche visionare proprio quel video sono due prodotti molto simili le differenze sono minime qui abbiamo un assorbimento massimo di 38 watt alla massima potenza nell'ML60 come avrei già immaginato l'assorbimento è di 60 watt. Nell'ML60 abbiamo 13.000 lux quindi abbiamo 8.600 alla massima potenza alla distanza di un metro con la classica parabola standard. Durante il video ti darò altre informazioni ovviamente riguardanti tutto quello che devi sapere in merito a questo ML30 almeno le cose più importanti a fine video ti dirò anche i prezzi e cosa ne penso. Vediamo adesso di chiarire anche un argomento decisamente interessante quindi seguimi con attenzione che ti potrà tornare utile anche in altre situazioni non solo adesso che stiamo parlando delle ML30 anche per qualsiasi altro tuo prodotto o qualsiasi altra attrezzatura che necessita di essere alimentato da una batteria a litio. Allora abbiamo detto che per far funzionare il nostro ML30 o la ML60 insomma qualsiasi altro illuminatore se non abbiamo la possibilità di collegarci a una presa di corrente possiamo ovviamente utilizzare delle batterie a litio. Funziona anche con le batterie NPF quelle della Sony. Ci sono vari tagli quelli che ti consiglio sono quelle decisamente da 6,5 ampere ci sono anche da 7 ampere ovviamente più ampere hanno più avrai autonomia ma adesso ci arriviamo. Quindi detto questo anzi ci può avere anche più autonomia se prendi in considerazione anche le batterie V-mount e le V-lock che hanno un amperaggio decisamente importante perché arriviamo anche a 10-15 ampere quindi avrai un'autonomia decisamente di oltre 3-4 ore. Noi l'esempio oggi lo facciamo con le classiche batterie NPF che ricordo non sono in dotazione ti danno in dotazione i battery box che deve alloggiare due batterie perché ne servono due perché le batterie NPF hanno un voltaggio da 7,4 volt e quando tu le inserirai proprio in questo battery box saranno inserite collegate in serie quindi avremo un voltaggio da 14,8 volt. Questi sono i volt che servono per far funzionare proprio la ml 30 qualsiasi altro illuminatore facciamo un esempio che voglio utilizzarlo per due ore alla massima potenza voglio fare una sessione fotografica devo registrare un video per due ore quindi voglio avere la sicurezza l'autonomia di far funzionare questo ml 30 cosa devo considerare allora innanzitutto abbiamo detto 38 sono i watt di consumo di questo ml 30 se lo utilizziamo alla massima potenza ovviamente non ti sto a dire che se lo utilizziamo ovviamente a potenze decisamente inferiori la durata della batteria sarà ovviamente maggiore però noi adesso facciamo proprio il classico esempio con il consumo massimo due ore sono l'utilizzo che ci servono quindi calcoliamo 38 watt lo modifichiamo per due e avremo un risultato di 76 watt quindi a questo punto dobbiamo dividere questi 76 watt per il voltaggio abbiamo detto 14,8 quindi avremmo esattamente 5,1 questi 5,1 sono esattamente gli ampere che consumeremo in questa sessione fotografica di due ore quindi se prendi in considerazione le batterie che ti ho detto poc'anzi le npf da 6,5 ampere ovviamente avendo questo amperaggio avremo un'autonomia maggiore quindi le due ore saranno garantite per cui potremmo utilizzare anche la ml 30 per due ore e mezza ok ragazzi ovviamente quello che ti ho appena detto è valido se le batterie queste npf sono in buono stato sono batterie tra virgolette certificate perché se prendiamo quelle batterie che si possono acquistare su aliexpress e anche su amazon non sono di qualità ovviamente quello che ti ho detto fino adesso non è valido volevo spendere anche qualche parola sui modificatori dal momento che con l'uscita della ml 30 ha messo nel mercato la godos anche due anzi tre modificatori portatili e due in silicone che adesso ve ne parlerò allora un piccolo riassunto giustamente per chi non lo sapesse la ml 30 e anche la ml 60 come i due flash a d300 pro e la d400 pro utilizzano l'innesto godos mount il nostro proprietario della godos che a differenza del bowers mount ha una circonferenza decisamente molto ridotta questo aiuterà ad avere dei modificatori decisamente più compatti e più portatili va anche detto e questo tengo a sottolinearlo che attualmente in commercio il softbox il modificatore più grande è da 85 cm quindi se avrai l'esigenza di utilizzare un modificatore decisamente più grande da 100 120 devi sapere che devi utilizzare il bracket s2 e cominciare ovviamente di nuovo utilizzare i bowers mount che è una cosa decisamente normale però va ovviamente a discapito della portabilità che contraddistingue proprio questi illuminatori e i flash a d300 pro e a d400 pro come ti dicevo la ds85 è il modificatore a forma otagonale più grande attualmente che troviamo in commercio non te ne parlo in questo video anche perché se vuoi più informazioni nel mio canale trovi vari video dove ve ne parlo brevemente ti dico che è un ottimo softbox costruito decisamente bene un telaio decisamente robusto e lo può trovare sia con sfondo bianco sia con sfondo argentato ok però adesso parliamo di questi modificatori allora cominciamo da questo più piccolo che tra l'altro se decidi di acquistare la combo e cioè il kit dove trovi 2 ml 30 lo trovi già è da montare non si apre l'ombrello sono quattro steppe quindi una volta che l'avrei montato rimarrà così d'altronde non occupa neanche tantissimo spazio c'è anche la griglia è un diffusore raramente lo utilizzerò come modificatore principale l'utilizzerò sicuramente come backlight o rimelite anche con magari dei flash come la d100 pro perché no invece questo te lo consiglio decisamente di più tra l'altro nel 2021 l'ho utilizzato moltissimo la ds 60s che rispetto al fratello maggiore cioè la ds 65 potrei avere i 5 centimetri meno però ha un telaio decisamente molto più leggero c'è anche da dire che è decisamente meno robusto rispetto alla ds 65 questo lo ammetto però nonostante tutto che ho visto che mi sia caduto un paio di volte come stai vedendo è ancora integro ok si apre ad ombrello se decidi di acquistarlo ti danno anche la griglia e due diffusori te lo consiglio moltissimo proprio con questi illuminatori con la ml 60 ml 30 anche con la d 300 però vediamo a questo punto questi due modificatori silicone che ti ricordo li troverai in dotazione se decidi di acquistare il kit si potranno acquistare penso anche separatamente anzi sicuramente anche se attualmente non li ho visti in vendita da nessuna parte tantomeno su amazon italia neppure su amazon degli stati uniti e neppure su alie express però appena ho qualche informazione qualche news sicuramente aggiorno la descrizione metterò i link per poterli acquistare e te lo dico anche perché sono decisamente interessanti e sicuramente il dom sarà uno di quelli che avrò sempre nel mio zaino ok non solo per utilizzarlo con la ml 30 ma anche con la d 300 quindi se non hai ancora fatto iscriviti al mio canale che lo proveremo proprio appena possibile all'aperto e vedremo come si comporta e cosa possiamo ottenere con questi modificatori allora ti dicevo sono costruiti in silicone silicone è il materiale che tutti conosciamo tra l'altro ti avevo già portato nel canale un modificatore proprio in silicone sto parlando del cobra quindi dal momento che adesso la godos ci ha pensato e ha messo nel mercato questi due modelli magari prenderli in considerazione ti faccio vedere innanzitutto il dom dom sai benissimo che serve per avere una luce diffusa a 360 gradi può tornare decisamente utile avrei sempre delle ombre decisamente morbide anche se vuoi illuminare una modella praticamente è come questo box a forma di lanterna il vantaggio di questo dom che è in silicone a differenza di quelli che conosciamo già tutti in plastica lui può essere piegato a metà quindi avremo una diffusione un po ridotta però avremo sempre una bella luce morbida quindi cambia un po l'effetto dopo ovviamente dipende sempre da quello che vuoi ottenere invece su questo mini soft box come stai vedendo decisamente piccolo può tornarti utili in varie circostate anche per fare il classico che foto dei prodotti still life perché no davanti però non è in silicone è in plastica però il telaio è sempre in silicone è interessante che questo come stai vedendo si può schiacciare quindi avremo differentemente una luce diversa da quella che otterrai proprio quando è esteso e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiornamento molto importante che voglio inserire in questo video, così per i più interessati a questi prodotti, a questi due modificatori della Godos, sapete dove acquistarli. Li ho trovati su AliExpress, vengono venduti in coppia, quindi li avrai entrambi dentro un comodissimo astuccio, quindi li potrai inserire nella tua borsa fotografica o zaino e li avrai sempre con te. Io utilizzerò moltissimo questo, come stai vedendo questo è l'incombro che avrò, quindi decisamente molto interessante. I tempi di attesa ovviamente su AliExpress sono un po' più lunghi rispetto ad Amazon Italia, anche perché vengono spediti dalla Cina, però credo che in 30-40 giorni lavorativi avrai questi due ottimi modificatori. Ovviamente se ho ovviamente notizie a riguardo sulla vendita su Amazon Italia, ovviamente aggiorno la descrizione e ti metto il link su Amazon. Vediamo adesso come collegare l'ML30 alla nostra applicazione Godos Lite, che possiamo scaricare ovviamente sia per Android che per iOS, anzi li collegheremo entrambi. piccola precisazione, esistono telecomandi in commercio per illuminatori Godos, come questo che vi ho fatto vedere nella recensione dell'ML60, che possiamo ovviamente modificare la temperatura colore, ovviamente la potenza e se abbiamo illuminatori RGB, cambiare il colore è decisamente molto più veloce, possiamo lavorare in vari gruppi, decisamente un telecomando molto comodo, non costa neppure tantissimi soldi, quindi ve lo consiglio. Però vi dico subito che nell'ML30 questa cosa non è fattibile e quindi dobbiamo avvalerci al 100% dell'applicazione Godos Lite, quindi funzionerà solo con il Bluetooth. Quindi ci scarichiamo la nostra applicazione, attiviamo sia il Bluetooth sui nostri illuminatori che vogliamo collegare, anzi vi consiglio sempre di fare il res del Bluetooth dell'ML30 la prima volta che lo fate, ok? Quindi siamo sicuri che l'applicazione lo vedrà. A questo punto, innanzitutto apriamo l'applicazione, vado a cancellare il gruppo che avevo già creato io, così non creiamo confusione. Allora, tappiamo su più, diamo un nome a questo setup luci, lo chiamiamo studio 2, ok? A questo punto tappiamo ancora una volta e a questo punto dobbiamo tappare sulla lampadina dove c'è il simbolo più. A questo punto appariranno già tutte le luci che vogliamo collegare che hanno il Bluetooth acceso. Nel mio caso sto vedendo proprio entrambi i miei illuminatori ML30, quindi li vado a flagare, entrambi, e clicco su conferma. A questo punto ci vorranno 10-15 secondi e dopodiché potremo ovviamente cominciare a utilizzare da remoto con il nostro telefono questi due illuminatori ML30. Ecco, in questo momento la connessione è avvenuta, quindi entro sul mio ML30 che mi sta illuminando come K-Light come vedete posso alzare e basare la potenza, noi la teniamo decisamente non troppo alta. Se avessi il modello ovviamente bicolor potrei cambiare anche la temperatura colore, dopodiché posso ovviamente fare la stessa cosa sull'altro modello, sull'altro ML30 che è qui alle mie spalle e cambiare e alzare la potenza. Cosa si può fare ancora? Posso creare un gruppo, quindi flaggo entrambi, clicco su gruppo, do il nome al gruppo, e a questo punto posso disattivare questo gruppo, se ho esigenze anche perché sto utilizzando anche altri illuminatori, basta flaggarlo e siamo a posto. Dopo lo riattiviamo perché se no non mi vedete più. Ovviamente non possono mancare anche nell'ML30 gli effetti speciali, gli effetti che potrai inserire nei tuoi video, anche questo illuminatore li possiede. Come ti ho fatto vedere poc'anzi nell'applicazione c'è anche una interfaccia apposita, quindi basta tappare lì e avrai tutti gli effetti che puoi applicare ai tuoi video. Puoi farlo ovviamente anche manualmente e direttamente dall'ML30 con il dimmer di destra, lo pigi, entri negli effetti speciali e scegli quello che più ti piace. L'ML30 è un illuminatore, abbiamo detto professionale, fin qua non ci piove, quindi non è adatto però solamente a fotografi professionisti o ammatoriali o a video maker di professione, è un illuminatore che consiglio moltissimo anche a quell'utente medio che magari vuole creare il proprio canale YouTube o magari già ce l'ha o magari proprio in quelle situazioni dove non abbiamo a disposizione una camera dove registrare i nostri video decisamente grande che il classico setup luci che tutti sappiamo essere decisamente economico. Quando ovviamente vai su Amazon trovi migliaia di offerte con 100 euro 50 euro però ogni volta dovrai installare i softbox quindi magari certe volte ti farà anche proprio passare la voglia di registrare i video però come stai vedendo con questo ML30 avrai a disposizione innanzitutto se lo utilizzi a batterie o delle due ore di autonomia quindi puoi anche registrare all'aperto dove vuoi non devi per forza avere una presa di corrente sotto mano quindi queste sono cose che secondo me devi prendere in considerazione. Lo tieni magari proprio su un angolo della tua camera e quando ti viene magari l'ispirazione schiacci il rack sul telefono e registri. In questo momento sono illuminato proprio dall'ML30 sono a una distanza ovviamente molto vicina sono circa mezzo metro è al 60 per cento della sua potenza dentro un softbox da 60 centimetri sto registrando a un sessantesimo f 2.5 ISO 100 con un 24 mm che giusto per farti un'idea decisamente più chiara. Come voglio farti anche vedere ancora una volta ci tengo a questa cosa perché per me è molto importante farti vedere le dimensioni che a questo ML30 la compattezza un peso inferiore ai 600 grammi quindi molto importante valuta bene questa è una lattina di coca cola così la avrai sicuramente le tue idee decisamente più chiare è più grande il mio telefono che questo ML30. Ok ragazzi siamo alle fasi conclusive di questo video decisamente più lungo del solito grazie di avermi fatto compagnia come al solito e ti ricordo sempre se ti va di lasciarmi un like che per me è molto importante proprio per portare contenuti interessanti sul mio canale stavo guardando i prezzi qui su amazon adesso ne parliamo dai però ti dico altre tre cose se vuoi acquistare questo godos ML30 o eventualmente l'ML60 allora questo setup che stai vedendo che potrebbe tornarti utile in sessioni video foto è decisamente leggero perché abbiamo un peso sotto i 750 grammi quindi se abbiamo sessioni lunghe di due tre quattro cinque ore il tuo braccio non si affaticherà per nulla ok il peso è concentrato sulle batterie ma le batterie come ti dicevo il battery box ha una linguetta in metallo che appenderai ai tuoi pantaloni quindi il tuo braccio deve solo sostenere l'ML30 ok quindi non farai nessuna fatica il tuo collaboratore ti ringrazierà altra cosa molto importante da prendere in considerazione è l'innesto in metallo che è decisamente molto più robusto di un innesto in plastica ok te ne potresti accorgere se utilizzi un illuminatore con innesto in plastica dopo un anno specialmente se hai abitudine come sottoscritto di cambiare molto spesso i modificatori terza e ultima cosa e dopo ti saluto è il rumore della ventola ventola serve per raffreddare il dissipatore dissipatore serve proprio per dissipare il calore che produce il led molto importante ti consiglio di lasciarla accesa anche perché non fa rumore questo momento eccola qui sopra di me l'ML30 che sta funzionando e questo è il rumore che senti nella traccia video praticamente non si sente nulla non sto ovviamente facendo nulla in post produzione te lo dico subito accendiamo anche questo la ventola è qui sopra la vicino al microfono e questo è il rumore che senti praticamente adesso qualcosa sentirai però praticamente pochissimo quindi super valido brava godos quindi vediamo i prezzi e dopo ci salutiamo l'ML60 272 euro è un buon illuminatore professionale lo utilizzo già da un anno come ti ho detto te lo consiglio se è il primo illuminatore che devi acquistare cosa vuol dire professionale che ha dei valori cromatici decisamente importanti parlo del CRI e del TLCI ok so che ci sono illuminatori molto più economici te li ho anche portati nel canale valuta un po' te da quello che vuoi ottenere sulle tue foto l'ML30 la versione a temperatura fissa costa 206 euro sto parlando sempre di prezzi amazon e spediti da amazon la versione invece bicolor costa 237 euro decisamente qualcosina in più devi anche sapere che il bicolor ha dei looks in meno rispetto al modello a temperatura fissa un 15 20 per cento in meno però il bicolor può aiutarti in quelle situazioni dove magari devi inserire proprio questo ml30 su un contesto dove la location ha una temperatura colore le luci più calde quindi basta regolare il dimmer e sei già pronto per girare i tuoi video eventualmente per scattare le foto quindi molto veloce molto diciamo più rapido di utilizzare le gelatine spero che questo video ti sia servito come al solito se hai domande ingerenti alle ml30 ml60 ti aspetto qui sotto io ti do appuntamento alla prossima settimana dove ti porterò un video decisamente più leggero ti farò vedere ovviamente un backstage ok ragazzi ciao e alla prossima